Ma cosa sta succedendo? Di cosa state parlando? Dicono, ci vediamo! Ma che cazzo che c'era? Ma che era Fabio? Ma che era Fabio? Fabio! Che entrare in una cazzo di assemblea condominiale Cosa cazzo state dicendo? Dicono, stanno parlando! Chiaramente abitare un condominio Magino Fabio alle assemblee di condominio da solo Ma io ancora non ho, io non ho ancora capito se Fabio è dentro o no Dentro, dentro, sono Foster, ok Foster, ok, Foster, è un nome normale O comunque, raga, vi giuro, mi accusano ogni volta di cose che io non ho fatto È assurda questa cosa, cioè Mi tirano a caso e mi prendono Cioè, io non so come fanno, raga Oh? È morto da dillo, niente Ci godo, ci godo, ci godo Allora, per me possono confermare perché ho fatto Ma hanno visto un botto di persone fare lo scanner Allora, io ho fatto Le foglie e gli scudi Power, ho fatto gli scudi Solo perché è stato con me Ho fatto gli scudi E non ho fatto gli scudi Però, quando li vedi flashare Ho attivato io Non si può Quando li vedi di flashare Però una cosa, allora Io ripongo un po' di dubbi su Atrix Però prima vorrei farti una domanda Prima di accusarti o cose simili Sono entrato in sorveglianza Perché eri sotto vicino alla botola? Perché stavano andando a guardare, caro Dentro la botola? No Molte volte Io molte volte lo faccio Mi metto che c'è una botola e scappo Perché molte volte il killer mi esce fuori Mi è già successo Perché andar vicino alla botola? Ah, cioè Magari era appena uscito, capito? Da magari Quindi stare con gli altri Comunque un po' ti salva la vita Cioè se sei in me Se sei normale Con due patine elettrici Vengo sfondato di botte Raga Signori Axel Perché? A buffo? Sì perché stai uscendo da Admin Dove hai ucciso Spawn Ma sei rinconito Raga andiamo per step Ma aspetta Non sai neanche chi è morto Raga stavano dentro Admin E' morto Spawn Io stavo salendo Che cazzo dici che stavo uscendo Allora Dentro Dentro Admin Non dentro Admin Ma Stavano dentro Admin Sì appena fuori di Admin Come si chiama Dove c'è la giunta Da fare i cavi Lì I cavi di Admin Oh Se è meglio di me E tu ci eri C'è insomma Certo perché Sono entrato dentro Visto il cadavere lì E tu che stavi staccappando I mettonati indietro Come ha fatto Berto Da prima Stavi scappando Da di Admin Mi hai visto E tornati indietro E in realtà No perché stavo Sarai la prima E in realtà Stavo salendo Se è un coglione Però anche l'attenzione Perché camper E' stato visto da Giorgio Mi pare Far delle queste Però può qualcun altro Oltre C'è e Giorgio Viceversa No Arigà Se buttiamo fuori A me Perdiamo Io ho visto power Arrivare da In alto a sinistra Come si chiamano I siti In alto a sinistra Io ti posso Di una cosa Che è l'unica che so Le uniche persone Che ho visto Scendere da Admin Ok Che sono andate Perse elettriche Erano Power Atrix E rovazzi Io non Tom Io non T'ho mai visto Rega Ax Io voto Ax Facciamo una roba Se non sono io E lo vedrete Perché siete tutti Di figli Di puttana Perdiamo Comunque ragazzi Io vorrei dire Che Giorgio E camper Si sono accusati C'è subito Anito Si sono discolpati Quindi secondo me Non posso Comunque ragazzi Fabio Aveva visto Ciccodo Fio di puttana E' fan Ragazzi Se abbiamo sbagliato Abbiamo perso E non abbiamo perso Infatti Axel Fio di Troia Era palese Rega L'ha beccato Camper Quattia sta a fare Oh mio Dio L'abbiamo preso Rega Signori Signori Rovazzi Ha feicato Lo scanner Cosa Fabio Hai feicato Lo scanner Come ho feicato Lo scanner In che senso Lo scanner In Metbay Come faccio A feicarlo Manco so Dove sono Sono visibili Le tasche Ma raga Ma io non so Neanche dove sono Le queste Ragioniamo sul fatto Che gioca Da poco Fabio Veramente Ma raga Lo scanner È visibile Non può Staremo Sopra Lo scanner È il meta Però È il meta Quello che ci piace È il meta Quello che ci piace Quando uno fa lo scanner Appaiono Tipo delle robe Verdi Quello attraversano Non capisco State prendendo Una cantonata Non si perdona Nessuno Giorgio Perché caro Perché non puoi votarlo Perdonami No 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 Stavo sentendo Vediamo subito Se ne rimangono Due No L'abbiamo Intata L'abbiamo Intata Ah cazzo per chi sto con l'ultimo quest adri allora una volta parla prima leo e dopo parli tu mattia il mio voto importante mai leo prima di aver fatto camperly se come tu hai iniziato a far la tasca se tu hai visto io ero arrivato subito il reattore ho fatto la mia task che è salita mancava la tua ultima e altri s'ha ucciso è vero ti ho visto che fare la quest giù a comunicazioni leo è vero a tricks difendere a tricks a tricks ora difenditi c'è ragione davanti al sacco di gente dall'inizio che sponna mi ha rassicurato il fatto che non poteva essere io ho fatto le queste in mezzo secondo rispetto a voi e ho girato e basta io però ho visto leo far salire una quest a meno che non era un fantasma power power che andavamo in giro assieme io the camper e che era da solo a tricks ragazzi è vero c'è una moneta testa e a tricks quando in questo momento so chi è anche senza vedere il risultato della monetina io voto a tricks o perché la volete la mente e mattia perché eravamo in tre assieme a un certo punto era leo era la mattia cosa io ero buono comunque chi era secondo assassino ma che mi ha caricato la prima non ero io io vorrei di una cosa camper ammazzato più persone lui da innocente che ha spinto le luci spinto di luce lina ragazzi ragazzi ho trovato il cadavere in elettrica esatto ero con atrix e sia io che altri siamo puliti perché ci siamo fatti le foglie a vicenda io ero anche io ero un papà anche quello in admin stavamo caricando i dati c'era qualcuna telecamera adesso io hai visto l'entrata il killer ha preso la botola ha preso la botola se hai visto entrare qualcuno allora io io ho visto una cosa però che c'erano le porte di medico chiusa raga quello è l'unica cosa che ho visto ed era telecamera potrebbe essere rimasto in voto l'ho capito pure anche perché regali vittime sono due vabbè io sono roba quando ho uccido non mi nascondo eh regali da schifo io schifo io schifo eh da schifo regali da schifo regali non siamo ovviamente possiamo solamente tranquillo ah se state con noi siete tranquilli fidatevi di quello io e Atrix siamo buoni ti prego riattivate la luce ti prego riattivate la luce ti prego riattivate la luce ok ragazzi tutti quelli che erano l'ho trovato in alto in medical ho visto da admin che c'erano due in medical ed eravate tutti gli altri in elettricità quindi chi non era il fabio c'era anche la via elettrica ok quindi manca solo paura no io ero telecamera appena tu hai chiamato l'ho visto qua sotto io stavo passando dai motori e sonato telecamera chi non era in elettrica è l'assassino perché tutti gli altri in elettrica e gli altri due medical io ero appena io ero appena arrivato a telecamera c'era 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 ma io stavo io stavo io stavo in telecamere cioè io come ho visto perché io da admin ho visto che ce n'era due a medical e 5 a telecamere sono andato su a medical a vedere ho trovato il cadavere la botola è il porta giusto effettivamente secondo me sta sul cazzo no regà regà che cazzo mi vuoi dare a caso io ero a telecamera e ho detto che sono passato dalla zona dei motori cioè ma a parte le cazzate cioè eri in elettrica nooo e vinti allora erano in cinque in elettrica due erano medical se non eri in elettrica di te scusa una cosa ma se tu non vedi guarda che tu non puoi vedere la persona che si muove lo so lo so ma ho visto i personaggini eh scusami una cosa ma magari se l'assassino era nella botola io schifo regà perché io non sono Giorgio io ho votato mi dispiace io regà non sono cioè vi ringrazio che mi avete salvato ma io non sono tenete l'occhio su power almeno c'è quello adesso va bene regà ho appena sgamato fabio ho appena sgamato fabio uscire dalla botola verso navigation ma che cazzo dici ragazzi fabio fabio come fa fresco la mano sul fuoco sta dicendo una troiata di dimensioni abnormi fabio come si stanno la parola con fresco ma è lui palesemente se non c'erano accusa regà o regà o regà fermi va votato qualcuno è morto io audio audio senti passi porca ok allora la tasca e quello dove devi girare il cazzetto no con l'elettrico che lo giri da verticale è una fa che sale la barra è un figlio di puttana di trovazione figlio di puttana secondo me ma regà è uscito dalla botola è uscito dalla botola no 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 sono stato di gestione sito sono stato gestionato a quello scritto ragazzi fermi tutti fabio uscito dalla botola cristo santo non cambiate il discorso partiamo dal presupposto axel che anche tu hai la mamma caro mi sono sbagliato io sto dicendo una spontanea ragazzi è fabio ragazzi è fabio è innocente ragazzi ho visto fabio uscire dalla botola ho visto fabio uscire dalla botola si era con noi noi quindi non è ora regà avete fatto una cazzata abbiamo perso abbiamo abbiamo perso abbiamo fatto una cazzata sempre togliere regà comunque alinato è troppo scatti c'è con tutto il bene del mondo ma non ha fatto manco una ghilla ancora ma è sempre ma è sempre ma è sempre regà regà io vi voglio bene però come faccio con alienato che le kill le faccio solo io ci sono otto persone quattro le ho uccise io però questa sera mi compro la skin di rovanzi su co ve lo dico grazie